In provincia di Torino, come succede in tutte le città o i paesi di questo mondo, un'anziana signora di 74 anni va a fare la spesa accompagnata dal figlio. Mette piede dentro il supermercato, improvvisamente il cuore cede, muore lì sulla porta del supermercato. Chiamano le ambulanze, chiamano tutti, ma per questa povera signora non c'è nulla da fare. Stenderanno sopra di lei un telo bianco in attesa che vengano gli addetti delle opere che si dedicano a questi interventi per portare via il corpo della signora. Qualcuno chiede ai titolari del centro commerciale del negozio, più che altro di un negozio di generi alimentari, chiedono di chiudere momentaneamente il negozio. La risposta dei titolari è no, come possiamo chiuderlo? Cosa farebbero i dipendenti in quest'ora nella quale stiamo aspettando di risolvere il problema? Pensate a una risposta di questo genere. Quindi potremmo dire pecunia non olete, quando ci sono di mezzo gli affari, il denaro non puzza e quindi non importa se ha l'odore della morte di una povera signora, l'importante è farla fare. Ma quello che a me ha colpito ancora peggio è stato il fatto che tutti i clienti che entravano e che uscivano, con grande indifferenza, con le loro borsi, i loro borsoni, con tutti i loro carrelli, passavano a quanto questa morta con i bambini, i vocianti, andavano a fare la spesa, perché la spesa era diventata più importante della pietà nei confronti di questa signora. Nessuno che si sia fermato, una va e vieni di gente che andava a farle compere. Ecco davvero, verrebbe da dire, la pietà è morta davanti a queste situazioni, a questi atteggiamenti, ma la cosa che più è drammatica è che non c'è un morto per terra davanti al quale muore la pietà, è che gente così, che ha perduto la sensibilità, è morta dentro pur continuando a camminare.